Grazie a tutti Due misure da 12 step ciascuna sui canali 7 e 8 Questo è tradotto dal giapponese direttamente? Prima di memorizzare sulle posizioni A o B Se invece si vuole memorizzare un ritmo di due misure Spostare il commutatore variation su AB Allora... no Non ci ho capito una sega Io leggo Io leggo soltanto perché non ci capisco una sega Due... però ti posso dire una cosa Che se io metto lì i dischi E gli dati, te lo viene bene Uno può andare pure a fare cose acustiche Perché io a casa con i miei Non mi posso mettere a fare lipi No, mi faccio paliello così Dozzinale Faccio montaggi Piccoli montaggi Eccetera eccetera Poi ogni tanto si scappa un culo Dudette Che risposte Eccetera... Ieri Eccetera eccetera Esa absurda che figlio di una cornuta la mosca si si io vi dico ovviamente ragazzi si cambia si fa si dice il bacio lettere è testa giù il vero legge andiamo qua qua devi ripirare qua 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 devi ripirare qua e via questa ceppa di cazzo ok stai rendendo no foto no foto ciao 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 ciao